per l'azzeramento del Consiglio d'amministrazione. I grillini chiedono le dimissioni di Bevelacqua, la rappresentante della provincia. Abbiamo già letto in profondità, approfondito, sulla gazzetta, su questo articolo. Poi odori nauseabondi dal cimitero di Lido, la denuncia del movimento Cadanzaro Marina. E quindi qualche bara non è stata sigillata bene. Apriamo la pagina di Lamezia per la cronaca del quotidiano della Calabria. Operazione Perseo, Giampa ha spiegato le modalità della grande truffa delle assicurazioni. Abiti firmati ai periti corrotti. I pezzi delle auto dei falsi incidenti venivano incollati con del nastro adesivo. Un articolo di Pasquale Rettura, vediamo un po' tutto ciò spulciato da ciò che hanno dato gli inquirenti ai giornalisti, dalle dichiarazioni dei pentiti. Eccoci qua. Allora, capi di abbigliamento firmati che il boss regalava al perito e all'assicuratore accusati di essere complici del sistema truffaldino tramite il risarcimento danni da incidenti simulati emersi nell'ambito dell'operazione Perseo. Anche questo ha rivelato agli inquirenti Giuseppe Giampa, il boss pentito del clan, che ha spiegato le modalità tecniche con cui avvenivano le truffe. Come avvenivano le truffe? Addirittura i pezzi delle auto incidentati venivano in qualche caso incollati con del nastro adesivo e una volta eseguita la perizia venivano rimontati i pezzi buoni. Tutto questo secondo il boss pentito con la compiacenza dell'assicuratore e del perito. Il perito rotundo, come ho già riferito nei precedenti verbali, durante le dichiarazioni fitte nel verbale del 13 febbraio ultimo scorso, aveva un rapporto esplicito nel senso che anche grazie all'intervento di Mascaro Francesco, racconta Giampa, che mi presentò lo stesso rotundo ogni volta che dovevo realizzare un sinistro simulato, potevo contare sul fatto che la perizia sarebbe stata effettuata dal rotundo. Infatti tutte le volte che dovevo sottoporre a perizia l'autovettura utilizzata per la simulazione, sicuro che la perizia doveva essere effettuata da rotundo, procedevamo semplicemente ad incollare con il nastro adesivo l'airbag, lato guida e passeggero. Poi montavamo sull'autovettura un paraurti, ovvero un cofano e i fari danneggiati di solito forniti dalla carrozzeria trovato o che avevamo nella nostra disponibilità, procedendo altresì alla verniciatura dei ricambi a seconda del colore della macchina, oggetto del sinistro, altro pezzo che in genere facevamo figurare danneggiato, ovvero semplicemente smontato, semplicemente spostarlo dalla sua sede naturale come se ciò fosse conseguenza di sinistro. era il radiatore, pezzo di per sé costoso, in modo che potesse avere maggior peso la liquidazione del danno. Secondo Giuseppe Giampà, quindi a quel punto interveniva il perito rotundo, già preventivamente avvisato da Francesco Mascaro, il quale gli segnalava la macchina da periziare come autovettura appartenente al nostro gruppo, indicando altresì presso quale autocarrozzeria si trovava la stessa. In alcuni casi l'autovettura da periziare veniva altresì portata davanti all'agenzia di Francesco Mascaro, allora quando si trattava di autovetture che non presentavano ingenti danni meccanici. e che dovevano risultare ancora marcianti e che magari presentavano solo atti vandalici. Il perito rotundo, a quel punto senza procedere ad ulteriori verifiche, si limitava ad effettuare le fotografie dell'autovettura. In quel modo da noi preparata e sulla base del preventivo che gli presentavamo, ci comunicava già sul posto la cifra che più o meno poteva sviluppare in base al preventivo presentato. Per come mi chiedete, anche allora quando l'autovettura risultava coinvolta in più sinistri, ravvicinati nel tempo, non capiva mai che il perito rotundo ci chiedesse la fattura relativa alle riparazioni precedenti. Quindi spiega in che modo il perito e l'assicuratore venivano ringraziati. Il perito rotundo non percepiva da me o dagli altri del mio gruppo un compenso in danaro per l'effettuazione delle perizie, secondo le modalità sopradescritte, dice Jean-Pas. Ma ricordo che almeno in due occasioni ho proceduto ad acquistare capi di abbigliamento e calzature presso il negozio Marvin o il negozio American Jeans per un importo di circa 500 euro a volta. Capi di abbigliamento e calzature che lasciavo presso l'agenzia di Francesco Mascaro, dove il perito poi passava a ritirarli, per come mi assicurava lo stesso. Francesco Mascaro, all'inizio anche a Francesco Mascaro, due volte qua il giornalista Rettura si ripete, vediamo perché, Francesco Mascaro, come mi assicurava lo stesso giorno, punto, chiedo scusa. All'inizio anche a Francesco Mascaro ho regalato in varie occasioni delle camicie comprate da Artusa di marca Estro Etro. Successivamente abbiamo realizzato delle truffe insieme in almeno 4-5 occasioni per importi di circa 7-8 mila euro ciascuno e in quel caso dividevamo il guadagno a metà. Chiude qua l'articolo Rettura. Chiudiamo con la pagina di Lamezia, un prefetto che ha saputo parlare a tutti, il saluto di Antonio Repucci che lascia la sede di Catanzaro per Perugia. Auguri di Mancuso al nuovo procuratore Prestinenzi.